Lo stadio dei Marsi si conferma fortino maledetto per l'Avezzano in questo girone di andata del raggruppamento F di Serie D. Anche contro il vasto Girardi gli uomini di Scorsini non riescono a conquistare i tre punti ed anzi devono subire una clamorosa debacle per 1-2. Gli ospiti vanno infatti sotto per un autogol di Gargiulo già al quinto minuto ponendo le basi per un ipotetico successo dei Marsicani. Ipotetico appunto perché pochi minuti dopo il signor Vailati di Crema assegna un calcio di rigore a favore dei Molisani per un'uscita spericolata di Coco. Dal dischetto Varuggeri e trova l'1-1 con il raddoppio del vasto Girardi servito già qualche minuto dopo grazie ad una bella percussione di Fiori sulla destra. Pallone sbucciato prima dell'intervento di Coco e tappin facile facile per Calemme. Lavezzano prova a reagire con una conclusione al volo di Casolla fuori di pochissimo e con un tiro di controbalzo di Bianciardi ben parato da Petriccione. Coco si erge a protagonista sia nel finale di primo tempo e poi in avvio di ripresa dunque Lavezzano prova a cingere d'assalto i Molisani. Il più pericoloso di tutti è l'Abonia che colpisce un palo sugli sviluppi di un corner e si vede annullare un gol per un fuorigioco molto dubbio qualche giro d'orologio più avanti. Non succede però più niente e ancora una volta i Marsigani si vedono costretti a rinviare l'appuntamento con la vittoria casalinga che ormai manca dal match contro il Roma City disputato addirittura a settembre. Sono contentissimo direi perché era una partita comunque che ci aspettavamo dai toni caratteriali comunque su un campo comunque non proprio praticabile. Quindi sapevamo che andava in questa direzione, sono felicissimo dei ragazzi perché comunque hanno tenuto botta. Non solo comunque nel provare a mettere in pratica le nostre idee ma anche nel tenere botta a livello fisico, a livello di attenzione devo dire che sono molto contento. Il fatto di essere passati in vantaggio poi ti permette comunque di avere spazi dietro perché comunque Lavezzano si è alzato, ha cercato di venire a prenderci e si creavano spazi. E lì dovevamo essere un po' più bravi come al solito a capitolare nuovamente perché siamo arrivati comunque ad avere occasioni importanti lì davanti. Però questo è il calcio quindi prendiamo di buono la grandissima prestazione, la grandissima vittoria. Quindi ripeto c'è stato un pizzico di sofferenza ma penso che sia normale comunque la fisicità dell'Avezzano era importante quindi felici, strafelici. Io innanzitutto provo profondo dispiacere, provo profondo dispiacere per questo cammino da Dottor Jake e Mr. Wright. Provo profondo dispiacere perché ai ragazzi non posso rimproverare nulla, anzi devo ringraziare chi è sceso in campo con punture, chi è sceso in campo e ce l'ha messa tutta. Oggi eravamo in grandissima emergenza, sapevamo di affrontare una squadra ostica e difficile. Però se vai in vantaggio e poi commetti due ingenuità clamorose nel giro di 3-4 minuti e poi è chiaro che non è semplice riprendere una gara con una squadra che aveva preparato una gara di ripartenze e così ha fatto. Poi è chiaro che ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo alzato gli attaccanti, sono passato dai due attaccanti ai tre attaccanti, ho cambiato in continuazione il sistema di gioco proprio per andarli a prendere alti, abbiamo creato anche occasioni per pareggiare. È chiaro che in qualche ripartenza lasciavamo qualche spazio proprio perché eravamo altissimi. Però ripeto, oggi il mio stato d'animo è quello che provo un vero profondo dispiacere per questo cammino altalenante che mi rattrista e mi dispiace tanto perché il lavoro fatto durante la settimana poi va in fumo per qualche piccolo episodio che non ci gira verso giusto. Ma no, è chiaro che spesso per la frenesia si sbaglia l'ultimo passaggio, spesso per generosità non facciamo la scelta giusta ed è chiaro che abbiamo delle caratteristiche che sono evidenti e che nessuno si nasconde. Però ripeto, io continuo oggi a essere veramente dispiaciuto perché la squadra ha dato tutto quello che poteva dare, non ha lesinato nulla. Peccato, peccato ancora, dobbiamo ancora leccarci le ferite e ripartire da un'altra... Non hai pensato di cambiare modulo? Assolutissimamente, si può sempre valutare e vedere tutto. È chiaro che questo è compito mio nello scegliere e nel diciamo proporre un sistema di gioco adeguato alle caratteristiche dei miei calciatori. Come sempre io ci metto la faccia, io come sempre vengo qua davanti a tutti e vengo sicuramente a crogiolarmi di quello che non può essere andato. Io ripeto sempre che quando le cose non vanno bene le colpe sono sempre dell'allenatore, ma assolutissimamente i ragazzi hanno fatto il loro massimo. Grazie.